Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un vlog, un vlog un po' speciale perché voglio parlarvi appunto di un gioco che io snobbavo. Ho visto uscire, non mi ispirava neanche, un po' guardavo magari le copertine e le miniature di alcuni video e non mi attraeva minimamente. Poi un giorno preso dalla noia mi sono messo un pochino a informarmi, vedere effettivamente che cosa fosse perché è un gioco della Paradox in inglese, era uscito anche Arts of Iron che mi ispirava ancora meno. Beh, alla fine ho avuto la fortuna di avere un paio di persone che conoscevo che lo giocavano e come potete vedere adesso il gioco, grazie anche soprattutto ai TWR, gruppo di traduzione, è in italiano. Ma come tutti i giochi Paradox magari basta una patch per far diciamo malfunzionare la traduzione, ma è un gruppo che ci sta dietro. Ma la cosa più interessante è che l'amico con cui ci ho giocato, insomma, che mi ha un pochino insegnato, non è avvezzissimo all'inglese ma alla fine si è abituato e quindi giocandolo sempre in inglese lui poi avrà difficoltà addirittura con l'italiano. Quindi è comprensibile alla fine una volta che si conoscono le meccaniche. Ma perché mi ha ispirato? E soprattutto a chi è dedicato questo gioco. Questo gioco è dedicato agli amanti della politica ma soprattutto chi magari ha apprezzato come me The Guild, quando l'ho portato The Guild 3, ma c'è anche The Guild 2 e l'1, dove mantenete la vostra famiglia di commercianti, qua beh gestite la vostra famiglia di politici, di regnanti, perché avete tutta questa mappa con tutti questi regni e potete iniziare in due periodi storici, intorno all'Ottocento d.C. o al mille qualcosa, sempre epoca medievale. Qua potete vedere la mappa, la mappa che viene divisa per reami, i titoli ducali, per i titoli reali e i titoli imperiali. E sfruttando questo potete portare avanti la vostra famiglia. Allora, io adesso, col tasto Home, torno sul mio. E qui vi trovate di fronte a una serie di cose veramente incredibili. Io vi racconto in breve perché io il gioco non lo so giocare, mi ci devo ancora dedicare, ma il gioco l'ho comprato. Mi sono fatto spiegare un po' da Mister, perché comunque ci sarà modo Mister, che conoscete Mister Deller, che conoscete da... magari molti di voi sono iscritti anche al suo canale, faceva strategici, ma ho anche altri amici che comunque ci giocano e qualche consiglio me lo danno sempre. E vedete la vostra famiglia. Io sono questo. Poi potete in realtà crearne uno vostro, se no prendere dei personaggi storici, con una moglie e dei figli, un figlio che comunque è già a 19 anni, un figlio che è appena nato. Questi figli erediteranno anche in base alla legge di successione che c'è. E io in questo momento possego questo. Non possedevo questa regione qua sotto e diciamo che per legge io sono andato a reclamare questo territorio. Ma non è finita qui perché io mi sono fatto spiegare un pochino le meccaniche di gioco e me le sono fatte spiegare per diverse ore. E la cosa incredibile è che ogni volta che io facevo una domanda e domandavo ma è possibile che... o è possibile fare... La risposta era sempre sì. E io mi convincevo, è un gioco incredibile. Perché bisogna entrare un pochino nell'ottica di quello che era il ragionamento medievale, dove ad esempio all'interno di un regno, il regno di Irlanda, ad esempio il re non gliene ferga niente se tu conquisti i territori e le tasse le paghi comunque a lui. E questa è una meccanica che io faticavo perché era il giorno magari più in visione moderna. Così come noi abbiamo una gestione limitata sotto direttamente ad alcune città, mentre le altre le diamo, ad esempio in questo caso, a un sovrano, il Ragvad, sì, questo tizio qui, che non ha una grande opinione di noi. Così come il signore di questa terra, meno 73 perché lo abbiamo appena conquistato. Ma tra l'altro il gioco è talmente vasto che posso raccontarvi anche degli aneddoti. degli aneddoti perché suo figlio, questo che vedete col più 18, io nel corso dell'assedio di questa città e la conquista di questo territorio, l'ho catturato, l'ho catturato e l'ho imprigionato, l'ho liberato. E lui a vita ora mi dovrà un favore che potrò tirar fuori nel momento giusto. Non è stata una gran mossa per il semplice fatto che lui non è il primo genito, ma in questo caso mi si aprono delle porte perché quando lui morirà e lui ha 42 anni, quindi gli restano ancora diversi anni di regno e davanti, di regno, sì, di vassallaggio sotto di me, ma si aprono diverse porte. Ad esempio lui potrebbe magari far ereditare, non è questo il caso perché è limitato a questo territorio, ma nel caso in cui avessi avuto più terreni, magari un terreno poteva finire a lui e lui ha un favore su di me e quindi io potevo magari usare questo gancio, diciamo, si chiamano in questo gioco, per avere un favore da lui. Potrei mandargli adesso qui nel consiglio, il mio addetto al capo delle spie, potrei mandarlo ad assassinare via via negli anni, studiando, facendo sotterfugi, assassinare i figli fino a rendere lui il primo genito. È una cosa un po' molto più dispendiosa, questa è molto difficile. È possibile fare veramente qualsiasi cosa, rapirli, tutte queste cose di sotterfugio, perché il vostro personaggio può avere varie abilità che possono andare dalla diplomazia, le competenze militari, quindi combattere in prima linea, rischiare addirittura anche di morire, oppure, diciamo, amministrazione, abilità di intrigo, abilità di erudizione, addirittura lui potrebbe rompermi le palle un giorno e dirmi, guarda mi hai conquistato, sono arrabbiato con te, pretendo, per non crearti casino, per non crearti rivolte, di entrare nel tuo consiglio e voglio diventare il maresciallo delle guardie armate, voi potrete accoglierlo o meno. Già, se rifiutate qua c'è il rischio di una rivolta, ma nulla vi vieta poi di farlo sparire. E questa è una meccanica delle mille di questo gioco. Ci sono, poi vabbè, tutta la gestione militare, è una gestione militare un po' diversa rispetto a quella dei giochi di guerra a cui siamo abituati, perché le truppe sono persone che lavorano, agiscono nel loro territorio, nella loro città, e nel momento in cui viene chiamata alle armi lascia il lavoro e si unisce, e in questo caso abbiamo il nostro totale di uomini che abbiamo, oltre ai cavalieri, che anche qui possiamo andare a vedere. E soprattutto abbiamo, ad esempio, a livello culturale, non ci è possibile eliminare un nostro figlio che magari ha delle caratteristiche, delle abilità, dei vizi che non ci piacciono, e che un giorno, quando il nostro personaggio morirà, lui andrà al potere, potremmo fregarlo, tra virgolette, rendendo questo nostro nipote, potremmo rendere il cavaliere uno dei nostri figli, magari che non ha una grande abilità in guerra, e costringerlo ad andare in guerra, e magari farlo morire, così, senza doverci neanche sporcare le mani di sangue. Questa è un'altra meccanica interessante. Poi il gioco non si trova a molto, diciamo, come prezzo, se lo comprate con tutti i DLC sui siti che consiglio. Lo dico perché con Paradox non ho nessun accordo, e soprattutto la Paradox ha sempre snobbato la lingua italiana, quindi, insomma, gli italiani non li ha mai considerati, quindi lo dico proprio a cuore leggero. Negli intrighi, appunto, potete vedere i ganci e segreti. Vedete che io ho il gancio su questo figlio, il bimbo qui, che è appena nato. Ho un gancio su di lui perché l'ho liberato. Ci sono le varie fazioni che possono nascere all'interno, tipo può nascere qui, per malcontento che provoco io, un comitato, insomma, contro il reggente, insomma, contro il duca, è un ducato questo, non è un arigno, e può diventare un problema per me. Qua ci sono le varie decisioni. Cioè, il gioco è molto più profondo di quello che vi sto spiegando. Già ora vi sto dando un'idea di quanto è profondo, ma in realtà io non vi sto insegnando assolutamente nulla, perché ci sono altri canali in grado di insegnarvi. Poi avete la corte. La corte non c'è, ma nel momento in cui diventerete re, e in questo caso per diventare re abbiamo il regno di Irlanda che non esiste. Cioè, sulla mappa voi non potete fare i regni che volete, cioè prendere questi due territori e fare il regno di Pinco. Dovete usare questi regni qui e poi espanderli eventualmente. Quando vedete che nessuno ha creato in questo anno, che è il 1067, scusate, nessuno ha creato il regno di Irlanda, ma cliccandoci sopra dobbiamo conquistare 8 contè, spendere 425 e avere due Ducati. Quindi in questo caso andiamo nella mappa dei titoli ducali e dovremmo conquistare ad esempio anche questo. Ma questo non possiamo muovergli guerra, quando vogliamo, a quel territorio. Dobbiamo prendere il nostro addetto, i sotterfugi alle cose segrete e creare dei falsi documenti che attestino che questo territorio faceva parte del monster di questo Ducato qui. In questo caso, noi potremmo per legge, senza suscitare malcontento alcuno, muovergli guerra e conquistarlo, e pian piano poi dire, guarda, no, vabbè, insomma, questo ve l'ho fatto così a grandi linee, e avremo conquistato i due Ducati per creare il regno, scusate, il regno di Irlanda. Ne avremo due, ma dovremo possedere 8 contè, quindi bisogna andare a vedere tutte le contè, le micro contè interne da conquistare. Quindi, bene, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, no, bene, ho il mondo e 1. Poi calcolate che all'interno di ognuna avete degli slot dove potete andare, cliccare, decidere di costruire un insediamento di un qualsiasi tipo, oppure andare nelle città, quelle con il nome sono quelle che controllate voi direttamente, e andare a costruire un luogo, ampliare il porto, creare nuovi edifici che vi danno dei vantaggi. Quindi questa è la possibilità di costruire, non la ci vieta di costruire anche all'interno di città che non regoliamo noi, ma non ha molto senso. E guardate il mondo, il mondo c'è tutto. Addirittura, in Italia, se andiamo a vedere la sua divisione, quella più piccola ancora, ci sono tutte queste. Magari trovate anche in casa vostra, insomma, la Lombardia, Novara, Torino, il Regno d'Italia, con il Regno d'Italia che non è creato ancora, giustamente, e poi ci sarà il Re, insomma, e per farlo bisogna in questo caso conquistare Tot Conte, così, e la guerra avviene in modo molto, diciamo, tra virgolette, non prendetelo per, semplice, nel senso che voi dispiegate tutte le truppe e li muovete col tasto destro, loro si muovono, vanno, combattono, ed è uno scontro un po' sullo stile di Fabio Ciccata Sasso, nel senso che dei numeri affrontano altri numeri, il numero più alto in genere vince, se i numeri sono simili, vengono visti più parametri, nel senso che c'è comunque la forza di combattimento nostra, personale, delle truppe, dei cavalieri che portiamo dietro, quindi sono tanti i fattori che tengono conto, ed è un gioco che si gioca per lo più, come vi leggete qua, in pausa, quindi quando noi molliamo la pausa il gioco va avanti di giorno in giorno e man mano succedono degli eventi e io vi consiglio se volete delle info su questo gioco, volete vedervi delle serie, godervi delle serie, apprendere tutti i segreti di questo titolo e di guardarvi su tutti e qui io non lo conosco di persona quindi non ho nulla a che fare con lui ma mi sento di consigliarvi Andrew Channel che vive per questi giochi il perché l'ho portato io perché so che il pubblico che segue Indie Gameplay è diverso magari conosce Andrew Channel ma il gioco di per sé non gli interessa ma potrebbe essere una leva di interesse il fatto di dire seguo Indie e Indie ha cambiato di idea su questo gioco magari posso cambiarla anch'io ed è questo il senso spero di non aver detto cavolate riguardo il gioco ma a linea di massimo ho spiegato quello che è a grandi linee e vi ho anche detto che appunto io ho profondamente cambiato idea su questo titolo lo snobavo usciva esce Crusader King 3 grandi recensioni non mi interessa e adesso mesi dopo sei mesi dopo l'ho comprato ovviamente ricordatevi traduzione in italiano TWR il gruppo di traduzione lo trovate nel workshop lo scaricate e hanno tradotto anche DLC quindi c'è la corte appunto quando avete un regno dovete gestire anche la corte la gente che viene alla corte insomma e vale varie allora questo è Crusader King non ci sono serie non ci sarà nulla però è solo un modo un pochino per divagare per evadere un attimino dal solito e farvi un discorso una chiacchierata in modo da farvi appassionare per dire qua ci sono anche tutti i territori di Kingdom Come Deliverance volendo insomma potete andare a vedere magari ritrovate gli stessi territori della Bohemia la Kumania ecco i Kumani si parlava quindi insomma in questi anni qui tra l'altro quindi interessante e potrebbe anche come è successo in alcune volte farvi appassionare di storie magari guardarvi anche documentari su la vita di qualche famoso condottiero e magari cercare in questo gioco di ripeterne le gesta il gioco dura comunque fino alla fine del Medioevo quindi sono diversi secoli e vanno avanti calcolando che passa di giorno in giorno e comunque sono diversi anni ma se lasciate andare avanti così prima o poi succede qualcosa perché comunque adesso io qui sto cercando di convincere sto facendo un'opera un complotto contro il mio un vescovo che ho io perché non non ha una grande opinione di me questo vescovo qui lo sto aumentando e c'è anche il motivo per cui e poi la religione la religione ecco l'ultima cosa è una cosa importante perché se è una religione diversa dovete fare attenzione alla gente che reclutate magari della religione opposta dovete tentare di convertirli così come le chiese quando costruite delle chiese ok vi pagano le tasse ma la chiesa viene decisa direttamente dal papa quindi se voi fate un torto a questo vescovo qui il papa poi magari si arriva anche alla scomunica in alcuni casi il papa è Alessandro II che è questo ovviamente potete andare a conquistarlo fondare la vostra religione fondare la vostra cioè gestire la vostra famiglia nel senso che mi spiego io sono questo la casata dei Briain e la casata non sono solo io ce ne sono anche altre e possiamo vedere anche l'aretaggio della dinastia quanto è famosa in che famiglia partiamo e man mano poi andare a modificare questa ricordatevi che quando morite il vostro personaggio muore prenderete il posto del figlio insomma e gli altri figli se per legge ereditari anche qui è un discorso ampissimo andrà a magari suddividere il vostro regno in più parti saranno degli avversari queste sono scusate le religioni cioè sono veramente di tutto potete perdervi nel sud dell'India insomma le culture ecco un'altra cultura molto importante anche questa la cultura cisalpina la cultura italiana siciliana lombarda cioè sono un po' sbilanciate insomma e la cultura irlandese e poi le casate qui è Briain che siamo noi ma possiamo andare a vedere se ce ne sono altre da qualche altra parte ma a missa di no Briain sono le uniche che sono lì non ho altre casate qua in giro però qua vabbè tutta un mix di arabi e spagnoli insomma in questa zona qui adesso io sono partito qui perché il tutorial vi fa partire qui vi spiega anche piuttosto bene le basi del gioco ragazzi fatemi sapere magari se avete cambiato idea se vi ha incuriosito anche solo se vi ha incuriosito questo video fatemi sapere lasciatemi un commento qua sotto alla prossima e ciao ciao